Assessore, mi pare sia andato davvero tutto bene fino adesso, no? Felicissimi, è stato veramente emozionante, bellissimo a vedere la nostra meravigliosa città, la nostra acropoli così piena di famiglie, di persone e di bambini. Il coro di 466 elementi tra i bambini della scuola Montessori e i loro genitori è stato veramente emozionante, la faffara solenne è veramente emozionante. L'accensione dell'albero con le stelline dei bambini, una diretta bellissima anche grazie allo speaker, così è stato dato modo a tutti grazie alla filodiffusione di sentire su tutto il centro storico le voci dei partecipanti e degli interventi e questa è una novità di quest'anno, assolutamente da ripetere. L'accensione degli iglu, in questo momento ci troviamo in via Mazzini, negli spazi dell'ex morza merci della Camera di Commercio, dove qui si svolgeranno i laboratori tutti i giorni organizzati dal post, il Museo della Scienza. Il 14 in piazza Matteotti inaugureremo il planetario, delle stesse fattezze di questi glu che ricordo da 6 sono arrivati ad essere 10 e che veramente incorniciano questo centro storico con questo albero meraviglioso e molto apprezzato, devo dire, di più di 18 metri. Interventi di tutti, accorati, appassionati, anche quello del Cardinale con un presepe meraviglioso, ancora più ricco per apportare ancora più quello che è veramente lo spirito di condivisione che è il Natale. Quindi venite in centro perché si respira una bellissima atmosfera. Auguri!